Ciao questo qui non dovrebbe essere un video che dovrei portare perché comunque io sto continuando a pullare anche da solo perché vorrei quel freezer quindi nel mezzo ci sono questi sconti con 150 stone ti fai 4 multi io continuo a pullare adesso mi sono accumulato l'ultima 50 stone per farmi l'ultima multi e poi quella gratis ma oggi c'è una particolare unità in più cioè ero in giro per la città e ho trovato un negozio e vendevano questa non so se l'avete capito c'è freezer freezer c'è scritto che è un tè alla pesca quindi andremo a bere la bevanda di freezer ok? per trovare freezer quindi apriamo la bottiglia ah si dai alla pesca non è neanche troppo brutta ho assaggiato dei peggiori quindi partiamo 3,2,1 non aspetta c'ho la versione dark aspettate c'ho la versione dark devo cambiarla assolutamente sto per fare una cosa troppo importante no che comunque tanto per dire questa cosa mi è costata 4 euro ok? io ho visto questa cosa questa bottiglia in quel negozio ho detto caspita devo prendere per fare questo video gli investimenti per il canale non sono mai arrivati così tanto alto come livello 3,2,1 andiamo mmm non è un fa schifo però è meglio il tè come dire il tè quello normale non mi ricordo neanche come si chiama la marca adesso però comunque io sono team limone quindi forse è per questo pure c'è solamente Gohan è la penultima multi poi ci abbiamo le singole le facciamo fake out niente fake out allora aspetta Reaser Reaser mmm Reaser Reaser mmm mmm Reaser ma che schifo è freddissimo non è neanche così tanto buona mi dà fastidio allora aspetta usciamo no 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 Reaser guarda ci sei tu non sei proprio questa versione ma sei tu ti ho con me ho speso 4 euro per fare questo video esci mi adesso immediatamente guarda mmm 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 mannaggia aspetta continuo a bere mamma mia mi dà mmm mmm è super zuccherata poi mamma mia mmm mmm dobbiamo notarmi che lei è primo a jump pure con questa mmm 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 Frizzer Frizzer oh mio dio ma che cosa è un poema ti devo dire ti devo dire e comunque non è male ma non è non è proprio Frizzer però non è male neanche comunque a me servono tanti personaggi nuovi perché ovviamente il meta è cambiato e quelli vecchi sono un pochettino più scarsetti o comunque sono abbastanza vecchi si vede che sono devo utilizzare di nuova parola vecchia Frizzer vedi questo guardalo nelle singole forse nelle singole perché questa è una bottiglia singola hai ragione mio dio oh mio dio mmm 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 metto così Frizzer pick out Frizzer nooo 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 ma non compratela ok Spar di Frizzer guarda non ti compro più mi fai schifo si guarda mmm è giusto nooo neanche niente un altro te ah penso di aver gridato più in questo video che in tutti gli altri della mia vita eh ciao non compratela non compratela perché non vi fa uscire le robe potevo spendere 4 euro in stone mi facevo un'altra multi ma c'è 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 un ticket vabbè facciamoci una singola anche qua tanto al matri ma eh 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 sì vabbè ma guarda che cosa devo trovare non ci erano neanche SSR buoni Non so se Freezer Lo comprerò Con i coin Perché ho paura che la prossima batch Usciranno personaggi Probabilmente forse ancora meglio Non so se ce ne sono Non ho controllato Perché è un centro da un sacco di tempo È come se il mio mondo finisse in questi banner Ok? Per questo Comunque Come video a caso Possiamo dire così Per È durato anche fin troppo Spero che vi sia piaciuto Almeno non comprate Per la pesca marcio Vabbè non marcio È carino però Se volete bevi qualcosa di disserante Compratevi questa terra Possibile È molto più buono Ci vediamo nel prossimo video Ciao